Buonasera, ben trovati. Tra poco il telegiornale parte con la situazione, senza voler troppo esagerare, ma esplosiva che si sta vivendo al porto di Trieste per la protesta dei portuali. È una notizia importante non soltanto perché la chiusura, seppure parziale, dello scalo marittimo è una cosa che riguarda tutta l'Italia, l'economia di tutto il paese, perché è lo primo scalo merci italiano e del primo addirittura petrolifero dell'interno Mediterraneo. Ma perché, vi dicevo, la situazione è di grande tensione? Lo vedrete nelle immagini che ci ha inviato il nostro inviato e nel suo racconto. Ci sono state situazioni di grande tensione, cominciate un po' già ieri sera. Vi abbiamo letto sostanzialmente in diretta, intorno alle 20.30, il comunicato dei portuali che annunciavano la fine delle proteste e il ritorno al lavoro nella giornata di oggi. Dopo quel comunicato è successo qualcosa, la protesta si è avvoltolata su se stessa perché si è saldata anche con la protesta dei Novax e quindi sostanzialmente la base ha contestato quel comunicato che è stato infatti poi ritirato ed è stato annunciato il ritorno, il proseguimento della protesta da parte dello stesso leader dei portuali Puzzer. Insomma, una situazione piuttosto ingarbugliata sulla quale pendono le parole pronunciate dal Presidente dell'autorità portuale, il quale nella sostanza ha detto che saranno tollerate le proteste soltanto fino a domani. Poi, che cosa succede? Non è chiaro e non è dato saperlo. Si ipotizza anche un intervento delle forze dell'ordine che potrebbe dunque provocare disordini ulteriori rispetto a quelli che ci sono già verificati nella giornata di oggi e che appunto vedremo tra poco. L'altra questione è l'intervento delle forze dell'ordine che c'è stato per esempio ieri nella manifestazione di Milano, sempre contro i Green Pass e vi daremo conto di che cosa è successo perché ci sono fermati e anche indagati proprio per quella manifestazione. È evidente però che questa questione dei Green Pass, su cui naturalmente stanno protestando alcune frange della popolazione, si è riaperta soprattutto dopo l'introduzione dell'obbligo del Green Pass, che infatti ha provocato e ha creato un numero molto alto di richieste di vaccini, di tamponi e di Green Pass scaricati. Sentirete che si è raggiunto la cifra record di 100 milioni, ma anche ha riaperto una discussione politica sulla quale ci si interroga in queste ore, perché l'idea e la suggestione è che probabilmente se si dovesse arrivare ad un livello di vaccinazione molto alto, intorno al 90% della popolazione, si potrebbe sospendere l'obbligo del Green Pass. Sentirete quali sono le posizioni politiche su questo. Politica che oggi naturalmente è in silenzio elettorale, si torna a votare in 65 comuni, in moltissimi capoluoghi di provincia, gli occhi sono puntati sostanzialmente per la maggior parte su Roma, Torino e Trieste per le sfide. Sentirete però tra poco anche che la disaffezione alle urne continua e i dati dell'affluenza sono ancora più bassi rispetto a quelli di cui vi abbiamo dato conto questa mattina. Un punto però resta chiaro ed evidente, ve lo racconteremo attraverso la storia della Gran Bretagna, che l'unica maniera per contrastare i casi gravi da contagio di SARS-CoV-2, resta l'utilizzo del vaccino. Vi racconteremo la storia della Gran Bretagna perché nel paese sono ricominciati a salire i casi di contagio, siamo a 45 mila nuovi casi per il quarto giorno consecutivo, addirittura più della Russia, con una differenza però sostanziale. Essendo la popolazione vaccinata quasi al 70%, c'è un nono delle vittime rispetto alla Russia, dunque una differenza davvero significativa tra i due paesi. E poi ancora dall'estero vi racconteremo della Germania perché siamo oramai quasi alla conclusione, i giochi per il nuovo governo sono praticamente cosa fatta, oggi è arrivato il sì anche da parte dei Verdi alla cosiddetta coalizione semaforo insieme ai socialdemocratici e ai liberali, con la benedizione peraltro anche della cancelliera Angela Merkel. Per questo e peraltro vi aspetto tra pochissimo, tra 30 secondi, intanto per i titoli. Giornata attesa, lo scalo di Trieste tra i portuali pronti a tornare alla piena attività e chi sempre meno vuole continuare la protesta contro il Green Pass. Spaccature anche all'interno del sindacato autonomo tra gli integralisti che propongono di andare avanti ad oltranza fino al ritiro del certificato verde e chi vuole invece chiudere il 20 ottobre. Il portavoce Puzzer si è dimesso ma continuerà a scioperare. Intanto due arresti per resistenza pubblico ufficiale, ben otto denunciati per un'interruzione di servizio pubblico, violenza privata dopo la manifestazione sempre anti certificato verde di ieri a Milano, non autorizzata. Sfociata in momenti di tensione con la polizia, il corteo ha tenuto bloccato di fatto il centro della città per ore. Le autorità stanno valutando le posizioni di una quarantina di elementi appartenenti all'area anarchica di Milano e di Varese. L'entrata in vigore del Green Pass nei luoghi di lavoro ha avuto come conseguenza anche un incremento nel rilascio degli stessi certificati che hanno superato ormai quota 100 milioni. Sono aumentati di più i tamponi che, lo ricordiamo, danno diritto al certificato verde per 48 ore ma ci sono state anche diverse dosi di vaccino in più, anche se non nel numero sperato. E sono complessivamente 5 milioni gli elettori chiamati alle urne per i balottaggi delle amministrative. I seggi sono aperti stasera fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Roma, Torino e Trieste sono le sfide più attese del secondo turno. In calo l'affluenza alle 19 aveva votato il 26,7% degli eventi diritto. Due settimane fa, nel primo turno, il dato era stato del 33,7%. Il futuro cancelliere socialdemocratico Scholz ha annunciato di aver raggiunto un accordo di governo con liberali e verdi. Firmato un documento di 12 pagine con gli obiettivi imprescindibili, frutto del compromesso per i liberali la non revisione del patto di stabilità europeo, per i socialdemocratici il salario minimo, il reddito di cittadinanza, per i verdi la fine del carbone entro il 2030. Buonasera, ben trovati. Allora praticamente vi abbiamo raccontato ieri in diretta, durante alla fine del telegiornale, la scintilla che ha creato la nuova tensione nelle manifestazioni dei portuali di Trieste. Vi abbiamo letto il comunicato con il quale inizialmente si annunciava alla fine delle proteste, si diceva abbiamo raggiunto uno scopo, abbiamo vinto, ma da domani sostanzialmente chi può, può tornare al lavoro. Quel comunicato però ha creato un caos all'interno del movimento e non solo, soprattutto tra la base del movimento dei duri e puri cosiddetti che si sono saldati con il movimento no vax e non solo no green pass. Tanto che il leader del movimento Puzzer prima si è annunciato le sue dimissioni, poi le ha ritirate, insomma si è creata una situazione di grande confusione anche all'interno dello stesso movimento. Allora ricostruiamo la giornata di oggi e poi andiamo in diretta con il nostro inviato. Al molo di Trieste oggi è la giornata più difficile per Stefano Puzzer. Il portavoce del sindacato autonomo dei portuali, volto della protesta che voleva bloccare uno degli scali più importanti d'Italia fino a quando il governo non avesse ritirato il decreto sul green pass obbligatorio al lavoro, stamattina si è dimesso dal suo ruolo. Ieri sera la decisione di sbaraccare tutto e tornare al lavoro incassando l'occasione di un confronto il 30 ottobre a Roma in Parlamento proprio con loro, i portuali di Trieste. Poi la marcia indietro. Restiamo in presidio fino al 20 ottobre e se il governo non ritirerà il decreto per tutti i lavoratori anche oltre, parole messe nero su bianco, su un comunicato di lettifica. E quella che ci si presenta oggi però è un'altra piazza, con sempre meno pettorine gialle dei portuali, una piazza più arrabbiata anche mentre intona i cori. No Green Pass! No Green Pass! No Green Pass! I manifestanti sono quasi tutti No Green Pass e No Vax. Accerchiano noi giornalisti sotto al palco allestito dove aspettiamo Puzzer. Non vogliono essere ripresi, ci cacciano. E' tutti! E' tutti! E' tutti! Sarà poi una delegazione del sindacato autonomo a scortarci per farci rientrare. Una delegazione di No Green Pass invece legge un comunicato dove si prende una posizione netta. La nostra lotta è a oltranza. Per ora continua il varco 4 del porto di Trieste. Giorno e notte! Sì! E la risposta a una nota congiunta di CGL, Cisle e Will, che chiedono che si liberi subito il porto dal presidio No Green Pass. Dopo è la volta di Puzzer. E' nervoso. Ciccio è sotto pressione e bisbiglia uno di loro. Il sindacalista ribadisce che la protesta continua fino al 20 ottobre e oltre se serve. E poi punta il dito su qualcuno che vorrebbe strumentalizzarla. Ci sono persone che stanno giocando con la vita nostra, dei portuali e degli altri. Mandano in giro informazioni sbagliate e non sto parlando dei giornalisti. Sto parlando di qualcuno che vuole crearsi notorietà. Il riferimento a una parte di No Green Pass che ieri lo ha cerchiato e processato quando il CLPT aveva deciso di tornare al lavoro. Ciccio chiede di non rispondere alle provocazioni. Se qualcuno viene da noi sediamoci in pace. Dopo il suo intervento torna un po' di calma. Ma oggi Puzzer parla solo a nome di quei portuali che vogliono continuare il presidio e che sono sempre di meno. Sostituiti da una folla sempre più arrabbiata e dove il rischio di sgomberi è sempre più concreto. Ecco questo è il punto. Che cosa sta diventando Trieste? Un luogo simbolico, paradigmatico. Colleghiamoci subito per questo con il nostro inviato Carmelo Schininà che si trova proprio di fronte al porto. Allora Carmelo intanto dici com'è la situazione se gli animi si sono calmati o si è sempre molto teso? Buonasera. Allora la situazione al momento è sicuramente più calma rispetto a quella di oggi pomeriggio e di stamattina. È stata una giornata oggi molto faticosa soprattutto per i portuali perché hanno avuto una certa difficoltà a gestire anche come abbiamo visto al servizio una piazza che di fatto non governano più al momento. proprio cinque minuti fa se la regia ci aiuta con le immagini le possiamo vedere c'è stato un incontro tra alcuni portuali con in testa sempre il portavoce anche di missionario anche se si è adesso dimesso di questa protesta Stefano Puzzer e il comitato No Green Pass perché era arrivata voce che il comitato voleva occupare il molo 1 e allora c'è stato un incontro documentato da queste immagini in cui si è deciso poi di non occuparlo e una volta verificata questa cosa i portuali sono ritornati dentro il porto. Al momento sono una ventina forse una trentina non di più quelli che continuano questa linea dura come appunto abbiamo visto prima dal servizio e rimane una piazza molto complicata da governare con la prefettura che fa sapere di voler il porto e il varco libero molto presto. Ecco questo è il punto. Sicuramente già a partire da domani mattina questo è il punto e la sensazione è quella di uno sgombero imminente se non si ritorna alla normalità e se non viene in qualche modo liberato tutto il varco. Quindi grande attenzione a quello che succederà stasera nelle prossime ore e domani mattina. Se dovesse succedere qualcosa durante i prossimi 20-25 minuti comunque vi richiedo la linea. Al momento la situazione è questa, c'è rabbia, c'è rabbia, c'è una rabbia difficile da governare e lo testimoniano anche queste immagini. Grazie, grazie a Carmelo. Appunto il problema è che come dicevi si sono saldate due forme di protesta da una parte portuale e dall'altra quel variegato mondo no vax e no green pass che abbiamo visto sfilare in molte marce di protesta nelle ultime settimane, non ultima quella di ieri a Milano dove sono intervenute le forze dell'ordine anche perché la manifestazione non era autorizzata nel suo percorso e oggi ci sono stati fermi e arresti proprio tra i manifestanti. Due persone arrestate per resistenza pubblico ufficiale, altre otto denunciate per interruzione di servizio pubblico, violenza privata, istigazione a disobbedire alle leggi e per manifestazione non preavvisata, un centinaio identificate dalla polizia. E' il bilancio della manifestazione non autorizzata dei no green pass che ieri a Milano ha bloccato per ore il centro città dal tardo pomeriggio fino a sera. Da Piazza Fontana dove come ogni sabato nelle ultime 13 settimane si sono dati appuntamento per la loro protesta puntavano sugli obiettivi sensibili annunciati sui social ma erano ieri il triplo rispetto al solito tra 10.000 e 15.000 partecipanti che nell'arco di poche ore hanno ingrossato il flusso disordinato del corteo che si è spaccato in più punti mettendo a dura prova le forze dell'ordine. Alla sede della CGL non ci sono mai arrivati, bloccati da un cordone di agenti che hanno tentato di sfondare per tre volte. Sono volate manganellate di alleggerimento, qualcuno identificato e portato in quest'ultimo. Un pezzo del corteo intanto si dirigeva alla prefettura, un altro verso Corso Sempione alla sede della RAI, un altro ancora puntava Porta Venezia, ingrossato dai centri sociali. Hanno provato a raggiungere anche le sedi del Corriere della Sera della Regione Lombardia ma sono sempre stati bloccati dalle forze dell'ordine. In tutto 700 uomini tra polizia, carabinieri e guardia di finanza. Un corteo dalle tante anime, militanti di collettivi anarchici, dei centri sociali, pensionati, piccoli imprenditori, dipendenti pubblici, persone che si oppongono all'obbligo del pass vaccinale. Anche quello di ieri senza una guida ufficiale è per questo difficile da controllare mentre si disperdeva nelle strade paralizzando il traffico. Alla fine pochi rimasti in serata si sono ritrovati in piazzale Loreto. Degli oltre 100 manifestanti identificati, la polizia sta valutando la posizione di una quarantina di persone aderenti all'area anarchica milanese e varesina. E poi c'è l'altro fronte, l'altra conseguenza che ha provocato l'introduzione dell'obbligo del Green Pass e la necessità di averlo per potersi recale al lavoro e dunque l'altissimo numero di passaporti verdi che sono stati scaricati proprio a ridosso dei giorni in cui l'obbligo è entrato in vigore. L'effetto del nuovo decreto, l'obbligo del certificato verde per tutti i lavoratori in vigore dallo scorso venerdì è ormai evidente. Sono oltre 100 milioni i Green Pass scaricati nel nostro paese ma la decisiva accelerazione verso questo traguardo arriva dai numeri registrati tra il 14 e il 16 ottobre. Due milioni e mezzo i certificati emessi nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato scorsi ma l'incremento non è dovuto all'improvvisa retromarcia di tutti gli scettici del vaccino. Dei 2 milioni e mezzo di Green Pass scaricati, infatti oltre il 70%, 1,8 milioni arriva dai tamponi rapidi da chi cioè ha deciso di non immunizzarsi e per poter lavorare o partecipare a eventi ha bisogno di sottoporsi all'esame nasofaringeo. In molte città si registrano code disagi nelle farmacie e anche nella giornata di oggi dai numeri quotidiani della pandemia emerge un significativo aumento dei tamponi processati, oltre 380 mila con l'indice di positività che a fronte di poco più di 2.400 nuovi casi rimane lo 0,6%. Non è certo il boom sperato ma l'effetto dell'obbligatorietà del passaporto verde anche sul numero dei vaccinati comincia a vedersi. Le prime dosi infatti sono in aumento rispetto alla scorsa settimana. Solo nella giornata di venerdì rispetto allo stesso giorno di una settimana fa sono state fatte 10.000 iniezioni in più, 69.000 prime dosi. Fa sapere la struttura del commissario dell'emergenza Figliuolo che aggiorna anche il computo di chi attende e ora soltanto il richiamo prima di aver completato il ciclo vaccinale. Oltre 46 milioni e 200 mila persone, più dell'85% degli italiani ultradodicenni ha fatto almeno una dose, mentre supera ormai l'81% chi ha fatto prima dose e seconda iniezione. Una soglia considerata sufficiente per uscire dall'emergenza prima dell'arrivo della variante Delta più contagiosa e quindi più pericolosa, ma che adesso spinge gli esperti a considerarla solo un passaggio verso nuovi obiettivi. Di questo ha parlato oggi Walter Ricciardi, consulente del Ministro della Salute e Speranza. Il 90% degli ultradodicenni vaccinati ci permetterebbe di vivere in una condizione di maggiore serenità, ma quando si potranno vaccinare anche i bambini dovremo mantenere la stessa copertura sul totale della popolazione. Ecco, questo è il dettaglio fondamentale. Se si dovesse arrivare ad una copertura vaccinale molto alta che sfiora il 90%, c'è la possibilità di rimuovere l'obbligo del cosiddetto passaporto verde, del Green Pass. Questo è un punto importante a quale ha accennato lo stesso Presidente del Consiglio Draghi la settimana che si sta per concludere, sul quale si stanno interrogando i politici, in particolare i rappresentanti del centrodestra, il giorno dopo gli scontri che ci sono stati per la manifestazione contro tutti i fascismi, alla quale il centrodestra ha deciso di non partecipare. Una sorta di argomento che porta questa coalizione a guardare oltre, soprattutto oltre le amministrative su cui si sta votando oggi. Il Green Pass è da liberali sulla salute, non possiamo dividerci, dice Silvio Berlusconi in un'intervista libero molto critica con i cattivi maestri e che se da un lato rivela aspirazioni da padre nobile, dall'altro fornisce sostegno alla posizione che anche la Lega sta assumendo in queste ore, dopo aver osteggiato la certificazione verde. Va bene il Green Pass, ma solo fino a dicembre. Il centrodestra non solo Berlusconi prova a guardare già oltre le amministrative e trova oggi un collante nel lamo lanciato da Mario Draghi nelle ultime ore. E cioè che se si dovesse raggiungere il 90% della copertura vaccinale grazie all'effetto di stimolo del Green Pass, allora sì che l'obbligo potrebbe essere sospeso. I calcoli, gli auspici dicono che questa soglia potrebbe essere raggiunta in due o tre mesi ed è qui che si inseriscono le dichiarazioni del giorno dei leader del centrodestra. Fra i primi a raccogliere la palla è stato Salvini, oggi lo segue il presidente del Friuli, Fedriga. Se la campagna vaccinale raggiunge il 90%, ci sono buone speranze di eliminare il Green Pass, detto in un'intervista al Corriere della Sera, in cui torna a chiedere al Premier di calmierare il prezzo dei tamponi. È un chiaro segnale che anche la Lega punta a ritrovare unità interna e anche a rientrare dopo gli strappi o il wrestling degli ultimi giorni. Su questo si può ricomporre la coalizione e proporre l'orizzonte breve del Green Pass. Anche a Giorgia Meloni, fin qui, fiera oppositrice, spiega un centrista moderato come Maurizio Lupi, che sottolinea per l'appunto è stato Draghi a parlare di stop con il 90% di italiani vaccinati. Dicembre osservano altre fonti parlamentari e del resto la scadenza anche dello stato d'emergenza. Di sicuro le reazioni della leader di Fratelli d'Italia saranno calibrate anche sul risultato finale delle amministrative. Quanto alla sinistra, curiosamente, in questa giornata sospesa fra silenzio elettorale locale e mosse politiche nazionali, sul fronte sanitario è un vecchio avversario di Berlusconi a parlare e a tenere la barra sulla linea della prudenza, Romano Prodi. Nel suo editoriale domenicale per il messaggero l'ex premier scrive che l'obbligo si dovrà togliere quando non ce ne sarà più bisogno. Il Green Pass ha avuto conseguenze estremamente positive e può essere uno strumento utile anche in futuro, dice. Porsi quindi una data di scadenza, come dice Salvini, non ha senso. La questione dei vaccini naturalmente è fondamentale, lo dimostra quello che siamo per raccontarvi tra poco, che sta avvenendo in Gran Bretagna. È una dimostrazione ex post sperimentale del fatto che seppure il virus torna a propagarsi, perché in Gran Bretagna non ci sono sostanzialmente restrizioni, non c'è Green Pass, ma c'è una popolazione che è vaccinata quasi al 70%. Bene, in queste condizioni, dicevo, se il virus torna a propagarsi, comunque decessi e ricoveri gravi restano sotto controllo. Questo è il punto fondamentale. A pochi giorni dalla presentazione del rapporto parlamentare sulla gestione del Covid, considerata fallimentare da parte del governo britannico, il Paese è alle prese con una nuova impennata dei contagi. Oggi sono stati 45.000, cifra che fortunatamente però non corrisponde ad un aumento dei decessi. Ma in questa situazione a suonare l'allarme sulla gestione del Servizio Sanitario Nazionale sono stati i responsabili delle ambulanze. Siamo preoccupati dai ritardi, scrivono in un comunicato. I trasferimenti dei pazienti dall'arrivo al pronto soccorso al reparto dovrebbero durare al massimo 15 minuti, ma si stanno creando code sempre più lunghe fuori dagli ospedali. Questo perché è aumentato del 30% il numero delle persone che si rivolgono all'emergenza ospedaliera, cifre che erano diminuite durante il Covid e che ora sono tornate a salire. L'allarme arriva in un momento particolare dell'andamento della pandemia nel Regno Unito. Sono infatti in costante aumento i contagiati. Oggi per il quinto giorno i nuovi casi sono stati oltre 40.000, le cifre più alte dallo scorso luglio, ma la differenza sta nel numero dei ricoverati, che resta sotto il livello di guardia e quello dei morti, 57. Questo perché, anche se in percentuale più bassa rispetto al nostro Paese, la vaccinazione oltremanica ha coinvolto il 67% della popolazione con la doppia dose. Una percentuale non altissima per considerarsi al sicuro. Arriva al 73% con una sola dose. Inoltre c'è da considerare che il Regno Unito ha totalmente rinunciato alle restrizioni, consentendo al virus di continuare a circolare. Dal 19 di luglio, infatti, il governo Johnson ha abbandonato ogni precauzione. Niente più distanziamento, né mascherine, né luoghi chiusi. Tutto è stato riaperto. Sull'isola si è ricominciato a vivere come se il virus fosse scomparso, cosa che evidentemente non è accaduta. L'alto numero dei contagiati degli ultimi giorni supera perfino quello che si registra in Russia, ma la differenza tra i due Paesi è profonda e significativa. I morti nella federazione sono quotidianamente nove volte superiori. Questo perché il vaccino Sputnik ha convinto finora appena il 31% della popolazione. Diceva prima Alessandro Sadori nel servizio che oggi è una giornata sospesa tra silenzio elettorale e programmi a livello nazionale. Perché si vota per i ballottaggi, siamo al secondo turno, ma la disaffezione alle urne continua, anzi è peggiore del primo turno. Si scende ovunque, da Roma a Torino a Trieste, l'affluenza continua ad essere in calo rispetto a due settimane fa, quando il dato definitivo nazionale segnava un già non esaltante 54%. Alle 19 di oggi aveva votato il 26,71% contro il 33,16% del 3 di ottobre. A Roma, parziale, qualcosa come 5 punti di differenza. 25% oggi, 30,13% alle 19 di due settimane fa. Anche a Torino, 25% alle 19 di oggi, 31,18% alle 19 del 3 di ottobre. Dati in qualche misura fisiologici, certamente parziali, si potrà votare anche domani, dalle 7 alle 15, ma la tendenza sembra essere questa, meno votanti per la scelta di quei candidati sindaci che al primo turno non hanno raggiunto il 50% più uno dei consensi. Le dimensioni del non voto daranno il senso politico di questa tornata elettorale. Rimane da vedere quale dei due fronti sarà più penalizzato dall'astensionismo che rischia di diventare il primo partito del paese. Le operazioni di voto oggi si sono svolte regolarmente, si può votare fino alle 23 nei 65 comuni interessati dove sono circa 5 milioni gli aventi diritto. Roma, osservata speciale, con 2 milioni e 300 mila elettori, pesa quasi per la metà di questo secondo turno. E poi Torino, Trieste, Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia, Cosenza, tanto per citare le città capoluogo. Si può votare senza il Green Pass che non è obbligatorio neppure per scrutatori, presidenti di seggio e rappresentanti di lista. Bisogna però indossare la mascherina e mostrare un documento insieme al certificato elettorale. Voto semplificato, sulle schede stavolta ci sono solo i nomi dei due candidati con le liste di appoggio. Si chiude domani alle 15 e poi subito il via alle operazioni di scrutinio. A distanza di due settimane l'appuntamento sulla 7 si rinnova per la sfida dei ballottaggi. Poco prima della chiusura dei seggi alle 14.15 ci sarà il fischio d'inizio della nostra rete per questo secondo tempo elettorale, da vivere con il passo della maratona mentana fino a risultati definitivi consolidati. A scandire il ritmo della maratona, i collegamenti con le principali città capoluogo. La nostra, una squadra di inviati, sarà presente nei quartier generali dei candidati sindaco e nei palazzi delle istituzioni, a Roma, Torino e Trieste tra le sfide più accese per la poltrona di primo cittadino. Ma con uno sguardo attento anche al secondo turno di Varese al Sud per seguire l'esito dello scrutinio a Benevento e degli altri comuni capoluogo. Per i commenti in studio un parterre ricco di firme del giornalismo politico, spesso presenti nella squadra delle maratone mentana. Paolo Mieli, Marco Damilano, Tommaso Labate, Antonio Padellaro, Franco Bechis, Alessandro De Angelis, ma anche Augusto Minzolini, Francesca Schianchi, Monica Guerzoni, Sarina Biraghi. In attesa dei risultati ufficiali sarà la SVG, con le prime proiezioni a fornire materia per analisi e dibattito sulla seconda tornata delle amministrative e le reazioni dal mondo politico. Non resta dunque che accomodarsi in poltrona e sintonizzarsi sulla Sette per conoscere in tempo reale come finiranno i duelli elettorali. A proposito delle elezioni, abbiamo ancora tempo di parlare di cosa sta accadendo in Germania. Siamo sempre più vicini all'inizio dell'era post-Merkel. Oggi i Verdi hanno dato il loro assenso al nuovo governo, alla coalizione cosiddetta semaforo con liberali e socialdemocratici. Il suo partito, la CDU, non c'è, ma è Angela Merkel a dare il primo endorsement al governo che sta per nascere a Berlino. Sarà un governo europeista, dice, questo è un messaggio importante per gli altri paesi membri. Questo futuro governo sa cosa significa l'Europa per la pace e la libertà. Così, dopo 16 anni alla guida della Germania e a tre settimane dalle elezioni, la Merkel passa il testimone al candidato cancelliere socialdemocratico Olaf Scholz, che insieme ai liberali e ai Verdi si prepara a formare il nuovo governo. L'ultimo tassello che mancava è arrivato questa mattina dal piccolo congresso dei Verdi, che quasi all'unanimità ha dato l'ok a entrare nella coalizione. Mai è stata così ampia la convergenza. È un importante punto d'incontro fra partiti che arrivano da direzioni diverse. Ognuno di noi cede qualcosa per avviare un decennio di rinascita, ha commentato la leader dei Verdi, Annabella Baerbock. Ne guadagnerà il paese ha aggiunto il leader dei liberali Christian Lindner. Il risultato dell'intesa è un documento di 12 pagine in cui si intravedono anche le divisioni, ma che mette nero su bianco i punti chiave. Tre per partito. L'uscita dal carbone, idealmente entro il 2030, cioè prima del tempo, cavallo di battaglia dei Verdi. Il salario minimo a 12 euro e nessun taglio alle pensioni pubbliche e bandiere socialdemocratiche. E nessun aumento nel nuovo in posizioni fiscali, tanto meno ai ricchi, con fine invalicabile dei liberali. E se lo stralcio della patrimoniale ha creato non pochi mal di pancia fra i socialdemocratici, ognuno ha perso e allo stesso tempo ottenuto un pezzettino. La SPD guadagna ad esempio l'introduzione del reddito di cittadinanza che dovrebbe sostituire l'indennità di disoccupazione, il famoso hard sphere. In che modo? Ancora non è chiaro. Così come non è chiaro come verranno finanziati gli investimenti senza introdurre nuove tasse, ma è probabile che si sfrutterà la possibilità di sforare sul pareggio di bilancio in circostanze straordinarie, così come è accaduto durante la pandemia. Una pietra tombale sembra che verrà messa invece sulla revisione del patto di stabilità dell'Unione Europea e soprattutto su un qualunque ipotesi di debito comune europeo. Restano a leccarsi le ferite intanto i cristiano-democratici ancora disorientati orfani della Merkel e orfani del loro leader Armin Laschet, che ha lasciato il suo posto dopo la batosta alle elezioni. È chiaro che sarà determinante il ruolo di Berlino sul futuro dell'Unione Europea. Vi devo ancora dire, dare una notizia, è morto ad Orvieto il pittore Achille Perilli, è stato maestro dell'astrattismo italiano, è stato fondatore nel secondo dopoguerra del gruppo Arte Sociale Insieme. Nel 1947 aveva partecipato alla creazione, alla redazione di quello che era il manifesto Forma 1 per la difesa proprio dell'arte astratta. Un'arte della formatura, così era scritto, aniconica, non riferibile all'affigurativo. Un manifesto che naturalmente allora alle ortodossie non era affatto piaciuto. Forma 1 è stato il primo gruppo peraltro astratto in Italia e in Europa nel dopoguerra proprio in opposizione alla scuola romana di pittura. Dopo di noi in Onda avrà ospiti Paolo Mieli, Umberto Galimberti e da Londra Barbara Serra che interverrà proprio sulla situazione della Gran Bretagna di cui vi abbiamo parlato nel giornale. Poi a seguire Atlantide che si occuperà dell'attacco giapponese alla base americana di Pearl Harbor e delle due atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Un'indagine su dubbi e sospetti di quell'attacco che ancora appunto avvolgono due tra gli episodi più drammatici e tradici della seconda guerra mondiale. In studio ci sarà con Andrea Purgatori, il giornalista e scrittore Furio Colombo. Ci fermiamo qualche istante. Eccoci, prima di salutarvi vi devo purtroppo dalla notizia della morte di tre italiani che sono deceduti a Riyadh in Arabia Saudita. Si tratta di Antonio Cagianelli, 33 anni, poi di Nicola, si è esposto, 28 anni di agrigento e Gian Piero Giarri, 32 anni di Roma. Antonio Cagianelli era di Biscegli. Erano tre ballerini che si trovavano a Riyadh per uno spettacolo e la loro, la vettura su cui viaggiavano durante un'escursione precipitata in una scarpata. Questa era davvero l'ultima notizia. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona serata a linea a De Gregorio Parenzo e poi a Purgatori. Buona serata.